Da tempo in memore, siamo stati attaccati e mangiati dai temuti Fossa. Dei Fossa! Ma se si attacca, no! Quindi, il mio piano geniale è questo. Faremo in modo che la banda di New York ci diventi amica e la terremo vicina. E così, grazie alla protezione del signor Alex, noi saremo al sicuro. E non dovremo preoccuparci dei temuti Fossa. Mai più! È una mia idea! È una mia idea! Sì! Sono mia! Aspettate, aspettate, Lemori, un momento, sto pensando a una cosa. Insomma, nessuno si è chiesto che il Fossa avessero tanta paura del signor Alex. Voglio dire che forse dovremmo averne paura anche noi. E se questo signor Alex fosse anche peggio, ne forza! E' un più grande che ti chiude nel canale. Spesso che quel tipo è uno che mi mette i primi davanti, vedi? Maurice, mi dispiace, non hai alzato la mano. Il tuo maligno convento sarà cancellato dal verbale. Qualcun altro sente i privi davanti, vedi? No? Bene! Quindi sta zitto! Quando la banda di New York si sveglierà, faremo il modo che si svegli il paradiso! E' uno che vuole un biscotto! E' uno che vuole un biscotto! E' uno che vuole un biscotto! che vuole un biscotto! mmmm